finalmente è arrivato il mio nuovo shop online www.xuder.it dove troverai i miei gadget ufficiali e ad edizione limitata mi raccomando www.xuder.it e adesso video le ho mandato l'invito guardi se oh eccoti qua è festazzo ci sono che devo fare? mettersi ridi la spazzatrice ah ridi non devi ridere siamo in squad duos allora sia che vinco io sia che vince lei la corona va ugualmente è bella eh pesca un cabo no anch'io devi arrivare alla fine è un race nel senso questa roba è difficilissimo però è figo ok andiamo 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 se non ricorda Follino Gaisello oh sono all'inizio io ancora porco dia vabbè ma anch'io ieri figa non ho capito nulla siamo arrivati undicesimi 47 punti easy piano piano calmo 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 ce la può fare ce la può fare eh devo salire per forza se no andiamo giù qui eh figli di puttana sei andato giù va che quella gente si è masterata un botto eh eh porco diazzo lo vedo Xiu quanto c***o sono masterati vai F vai F prendi punti prendi punti vai ma io son dietro son dietro son dietro vada vada F siamo fottuti non faccio il fottuto eh non faccio il fottuto però mi sento fottuto ma non mi grabare figli di puttana ok sono qualificazione io Xiu sto arrivazione oddio ho passato 20 si no in pratica in pratica FL fa punti come in arena non cambia niente in poche parole comunque siamo entrati addirittura in top 50% ci siamo classificati tredicesimi non ho ancora vinto una cornetta minca sono un mostro sono questo non me lo meritavo eh questo non me lo meritavo ero primo io ho preso le palle in faccia non prenda le palle in faccia ho preso le palle in faccia oh oh ma con che cazzo di velocità mi lo stanno sparando no 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 oh no no oh rilassumati di p***a porca p***a Eva andiamo andiamo sono quasi qua al lato sono qua al lato let's go eh ma siamo messi male F devi quella alas perché siamo a 17esimi quallati F quallati 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 no siamo fuori davvero? eh sì insomma mi sembra che hai giocato benissimo eh anche a me anche io ho giocato benissimo però siamo fuori morte sana incorpore sano peccato ero qua eh anch'io ero quasi al ma io sono ultimo ma sono cascato un secondo ma pure lei è penultimo che c***a eh una volta sono caduto figlio di droga vado giù vado giù vado giù porco dio no F siamo una m***a siamo veramente no F siamo vergognosamente schifosi F sono dietro di lei F facciamo c***a che sbocco no F 17esimi siamo fuori siamo out siamo out ha quitato ha quitato si che senso ma che sbocco no raga no no c'è un problema sono fortissimi in tutto il gioco ma c***a un problema eh ma dobbiamo masterare F piano dobbiamo un attimo ragazzi ma è difficilissimo come siete una sega non vi permettete no è piano è un attimo nel senso guarda che io ho partecipato ai rival di Fall Guys mica non sappiamo essere forti sappiamo i numeri ho partecipato ai rival di Fall Guys abbiamo fatto anche no non ci siamo qualificati sto cominciando a masterare questo livello comunque glielo dico con le dico che ieri sera ero molto peggio c***o non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio che c***o era lei probabilmente si non ce la possiamo fare no siamo vergognosi F siamo vergognosi F è veramente una cosa ventesimi non riesco a passare sono giù sono giù sono giù un secondo siamo ventesimi siamo guallati let's go eh sì siamo ventesimi cioè lei non ha fatto un c***o sono ventesimi let's go siamo dentro grabbano tutto grabbano si bastano eh ho notato ho notato tenga F tenga F tenga F non possiamo andare giù eh oh 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 ho l'ipopotamone grabbone ho l'ipopotamone grabbone l'ipopotamone la puscia l'ipopotamone ho due popopotamone i grabboni ho due popopotamone i grabboni non caschi l'ipopotamone assolutamente no sono caduto a sei secondi dalla fine ti prego resisti perché siamo undicesimi siamo guallati oh su che il popopotamone oh ma c'è Frenk e Giovanni che sa quello che sta facendo Frenk e Giovanni andate a me oh oh figli di p***a e mo Silmo mi spiega no mi sento mai oh ma cattino andate giù no l'ho trovata la strada si sono crescendo per un po' di assi no ma porca no è festazzo lei non ho però no vabbè non ci siamo però è festazzo non ci siamo c'è un problema tecnico di fondo secondo me ma non può fare così ma Cristo ma io su ca 4 punti siamo undicesimi senti qua lì ci siamo eh non ti ha qualificato io ah allora abbiamo perso sparano frutta ma come sparano frutta ma c'è una fragola giga ok oh 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 c'è una susina f siamo fottuti io te lo dico la situazione non è assolutamente delle migliori non morire non morire non morire che ci siamo sono uno sono zero easy alleluia mare il pazzo porco il cazzo arco diaz no mi ha fermato un figlio di mi sento mario non sbagliamo nulla non sbagliamo nulla d'accordo non è vero non siamo primi siamo fottuti scendono palle scendono palle sono belle vovose orco diaz pesa la palla in faccia anche questo diceva la mia ex andiamo andiamo piavolo palle ovunque sarino prime ma come c***o ti fa qui ci sono c'è il vento che fa vento e beh sì è un vento orco diaz non riesco a passare questa parte con le bandane che fanno sono vinto non lo so la prego passi guardi 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 no effetto siamo fottuti siamo fottuti siamo fottuti siamo ventunesimi la prego chiuda la prego bene 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 vai che chiudi tu che c***o no effetto no 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 e qui era e qui era era fatta ventesimi piano piano ventesimi ventesimi siamo dentro siamo qualificati vai hai messo cotto lei quarto terzo con calma non passarli vicino vai easy let's go figa bravo chiudi la f chiudi la f chiudi la f davanti dritto 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 sì c***o let's go grandi fatiche signori siamo rimasti in otto squadre potremmo essere in finale no sarà semi dai block party te lo ricordi il block party porco di azzo se me lo ricordo non c***i che sennò perdiamo ci siamo ci siamo let's go avete preso il pene easy siamo in finale si può fare si può fare tin ice stay atop the cracking ice c'è il ghiaccio sotto che si rompe non lo so non l'ho mai fatta questa F mi sembra molto similare a quell'altra roba lì si però è molto più chiusa si si vede non so come funziona questo ragazzi ma è la finale questa? si si ma ok sono due strati si si no è fe che sono tre sono tre strati xxuder ah chi vince tranne due ha vinto buono buono ma forse anche l'altro vince quasi certamente si 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 ovvio ovvio perché su 11 vengono qualificati bello questo finale molto niente tranne i buchi ok sei su? no bravo xxuder no me fai mi hai dato bravo xxuder mi hai fatto andare fuori di testa in finale secondi secondo me è ottimale siamo arrivati secondi? si si dopo due secondi avremmo vinto nooo 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 nooo